Free Town, capitale della Sierra Leone, è una città caotica di forti contrasti con un passato tormentato e un futuro incerto, ma anche una città non priva di fascino e di sorprese. Ne parliamo con Federico Monica, architetto e urbanista, collaboratore della nostra rivista, autore di un libro dedicato a Free Town disponibile da oggi. Io mi occupo da urbanista di questa città da più di 15 anni e quindi oltre a essere una città che amo particolarmente, è una città che ho avuto occasione di girare strada per strada e addirittura in alcuni casi di disegnare sulle mappe in quei quartieri che sono cambiati troppo velocemente. E quindi posso dire che si tratta insomma della mia città di adozione. Perché è un libro su Free Town? Beh, io credo che seppure si tratti di una città piccola e insolita, sia una città che veramente merita attenzione. Se non altro per la sua origine assolutamente particolare e che è nascosta anche nel suo stesso nome, la città della libertà, perché nasce proprio per restituire la libertà agli schiavi che venivano portati nelle piantagioni in America. La città di Free Town ha una data di nascita vera e propria che è l'11 marzo 1792. Già da alcuni anni prima si era cercato di realizzare degli insediamenti, ma è proprio in quel giorno che un gruppo di oltre mille schiavi liberati arrivano dalla Nova Scozia del Canada e fondano propriamente questa nuova città. Ecco Federico, se dovessi fare da guida la scoperta di Free Town, quale itinerario disegneresti? Insomma, quale tappe irrinunciabile inseriresti in questo viaggio? Beh, a costo di essere banale partirei sicuramente dal Cotton Tree, che è il simbolo di questa città. È un enorme albero, alto decine di metri, che sta nel cuore, nel centro principale della città ed è il simbolo non a torto, proprio perché questi mille cento schiavi che arrivarono a fondare la città si riunirono, appena sbarcati in preghiera, intorno a questo enorme albero, che è quello che è ancora lì. Quindi dopo 230 anni ancora quest'albero copre e protegge la parte centrale della città ed è, diciamo, non a torto il suo vero e proprio simbolo. Poi sicuramente passerei da alcuni luoghi storici, il mercato di King Jimmy, ad esempio, che è un posto abbastanza particolare perché unisce storia e il dinamismo attuale della città. È un mercato su una piccolissima spiaggia in cui arrivano queste barche che attraccano cariche di pesce o di altre mercede perennemente affollato giorno e notte. E questo è anche il vecchio molo della città, proprio quello in cui arrivarono i primi fondatori dalle Americhe. Poi, senz'altro, un giro attraverso le case Crio, che sono i luoghi più particolari da un punto di vista architettonico. Queste case, costruite dai fondatori e poi riproposte e copiate da chi arrivava dopo, che hanno uno stile unico, uno stile che si richiama al delta Mississippi, agli stili caraibici e che quindi crea un'atmosfera davvero unica in città. Per chiudere, sicuramente, un giro sul Monte Aureol, che è un'altura che domina la città, e da lì è possibile vedere le varie realtà di Freetown, dalle spiagge assolate e dorate fino alle baraccopoli principali che costellano la costa. Ecco, consigli pratici per i viaggiatori, due cose da fare assolutamente a Freetown e due cose da evitare. Sicuramente vivere le aree di mercato, in particolare le strade di mercati che hanno il centro e il cuore in una zona che è chiamata Eastern Police, dove si concentrano, oltre ai venditori, proprio il cuore pulsante della città. Lì è possibile lasciarsi trasportare completamente, lasciarsi coinvolgere e vivere veramente queste aree caotiche e fantastiche. Un'altra possibilità, un altro consiglio per vivere un'altra parte di Freetown più naturale, con dei ritmi meno frenetici, è sicuramente quella di passare una mattinata con i pescatori a Lacca Beach e a Lumley Beach, in alcune zone appunto sull'Atlantico, dove viene ancora effettuata questa pesca tradizionale con delle funi che vengono trainate dalle barche lontano dalla riva e quindi è possibile vivere i ritmi di queste persone. Sconsigli per i visitatori di certo non lasciarsi intimorire da quella che può sembrare una città estremamente caotica o anche da quello che può sembrare a volte un atteggiamento degli abitanti un po' duro o addirittura quasi di presa in giro. La presa in giro e lo scherzo è tipico in questa cultura e quindi reagire a quella che ci può sembrare un'offesa con una risata può diventare anche una bellissima sorpresa e può concludersi a pacche sulle spalle o addirittura a bere qualche birra in un bar. L'ultimo non so se sia un consiglio oppure qualcosa da evitare, lo lascio alla sensibilità di ognuno, senz'altro un giro sulle Okada, sui mototaxi che a Free Town hanno avuto una fortuna enorme e proprio per le caratteristiche della città, le strade molto strette, il traffico congestionato, le curve nelle strade che si arrampicano sulle montagne, ecco è un'esperienza senz'altro interessante, senz'altro forte, però richiede nervi saldi anche magari qualche santo in paradiso che ci protegga perché il rischio di incidenti è veramente altissimo. Ecco Federico accennavo alla storia tormentata della città che poi è una storia complicata di tutta la Sierra Leone, ce ne vuoi parlare, ci vuoi ricordare quelle che sono state insomma le vicende che hanno scosso questo pezzo d'Africa? Come dicevamo la città, la sua data di nascita quindi nasce alla fine del Settecento, cresce molto nei primi anni a cavallo fra il Settecento e l'Ottocento e quindi si crea questa popolazione molto multietnica perché questi schiavi liberati arrivano praticamente da tutta la costa atlantica, alcuni addirittura dal Mozambico e quindi è una città fortemente multietnica che crea una sua lingua, che è il Crio, che è una lingua appunto una sorta di pidgin d'inglese modificato e risistemato, una sua cultura vera e propria che si rifà alcune culture del sud degli Stati Uniti, anglosassoni eccetera, quindi un'atmosfera unica. Pritown e la Sierra Leone diventano poi protettorato e colonia britannica, dopo l'indipendenza iniziano alcuni problemi che sfociano poi soprattutto le legate a corruzione, colpi di Stato, storie simili a quelle di tanti paesi africani che sfociano però poi in quella che è la famosissima guerra civile che va più o meno dal 91 al 2001, quindi anni molto duri che colpiscono soprattutto l'entroterra, ma che colpiscono anche la città. La città viene conquistata e saccheggiata più e più volte, quindi lì iniziano delle ferite molto forti di cui si notano ancora i segni, non solo nelle case distrutte, negli edifici distrutti, ma anche nell'informalità diffusa, perché molte persone poi si rifugiano in città e costruiscono questi quartieri informali che oggi sono una caratteristica comune. Ricordiamo a questo proposito Federico che Freetown si trova su una penisola, è stretta tra l'oceano e delle colline piuttosto ripide, rettrostanti, amantate da quello che rimane della foresta, è una città cresciuta in maniera caotica, incontrollata per certi versi, e oggi appunto è in bilico, tra lo sviluppo e il collasso, non sa più dove allargarsi e per guadagnare terra edificabile non guarda in faccia a nulla, nessuno, nemmeno alla propria storia. Esatto, è una definizione che calza perfettamente con la città. L'aumento della popolazione, che è stato travolgente, soprattutto negli ultimi 20 anni, ha portato ad esempio a deforestare completamente quelle che sono le colline, che un tempo erano la cintura verde della città. Questo ha aumentato moltissimo i rischi di frana, i rischi di alluvione anche a valle, e questo anno dopo anno nella stagione delle piogge crea dei disastri molto molto gravi. Il più grave, lo ricordiamo, è stato nel 2017, quando più di mille persone hanno perso la vita in un enorme frana il giorno prima di Ferragosto. La stessa cosa avviene sulle coste, sulle spiagge, sulle rive dei fiumi, perché sono altri luoghi rimasti liberi, e anche lì si cerca di guadagnare spazio per le case costruendole in zone che normalmente sono considerate a rischio, e quindi a rischio di mareggiate, a rischio di alluvioni. E anche in questo caso, purtroppo, i disastri avvengono sempre più spesso. Quindi una crescita che va a discapito sia degli ambienti naturali, e quindi le mangrovie, le foreste sulle colline, ma anche, purtroppo, a quelle che sono le testimonianze storiche. In questo caso è spesso la speculazione, per cui tante case Crio, che sono appunto queste case che citavamo, costruite con asse di legno molto particolari, piano piano vanno perdendosi, perché al loro posto crescono delle palazzine anonime in cemento, che però vengono costruite proprio per speculare nel mercato immobiliare. Ringraziamo Federico Monica per questo affresco tra luci e ombre dedicato alla capitale della Sierra Leone. Non mi resta che ricordarvi il suo libro, fresco di stampa, Freetown, oggi zero, orizzonti geopolitici. Sono 112 pagine, 13 euro. Il volume fa parte della collana Le città visibili, di cui abbiamo presentato anche il titolo dedicato a Nairobi, firmato da Freddy del Curatolo, che verrà protagonista e altre importanti capitali africane, Bamako, Lusaka, Brazzaville, sotto il coordinamento editoriale di Angelo Ferrari. Grazie a tutti.